Tre giorni a Fiugi per il VII Congresso Nazionale della FederConsumatori. L'associazione, pur conscia di essere giunta ad una fase di grande sviluppo, si concede un momento di riflessione sul percorso fatto, sugli obiettivi raggiunti e quelli da raggiungere, sulle prospettive future. FederConsumatori rappresenta oggi infatti la più diffusa associazione dei consumatori in tutto il territorio nazionale, con oltre 1.000 sedi, oltre 2.500 volontari. Milioni sono i contatti ogni anno e le richieste di assistenza da parte dei cittadini. Un forte impegno, insomma, che porta l'organizzazione ad essere una vera e propria comunità di intenti che si fonda su principi, valori, solidarietà. Nel suo intervento, il presidente Rosario Trefiletti ha sottolineato l'importanza di questo incontro utile a definire la terza fase dell'associazione. L'obiettivo è quello di rendere FederConsumatori forza sociale del Paese. Essenziali requisiti alla base, quelli di rappresentanza e rappresentatività indispensabili per poter incidere nella vita politica, economica e sociale del Paese, soprattutto quando il Paese attraversa condizioni difficili come quelle che si protraggono ormai da troppo tempo. È positivo che si discuta, si approfondisca e oltretutto si facciano delle proposte rispetto a una tematica fondamentale, oramai dopo anni e anni di situazione di crisi, oramai crisi endemica, strutturale, e cioè il problema dello sviluppo. Il dibattito di oggi l'ha affrontato in maniera molto seria e noi siamo molto grati a quelli che hanno interlocuito con noi perché la questione vera è lo sviluppo. Quale sviluppo e come dare soprattutto ai giovani occupazione? È una questione naturalmente di carattere etico perché dare lavoro ai giovani è un problema di civiltà ma poi è anche un problema di carattere economico perché le famiglie italiane in questa fase hanno francamente, sono subissate da questa crisi sia per le mancate entrate perché figli e nipoti non lavorano e sia perché fanno anche welfare, assistenza agli stessi figli e nipoti che non lavorano. Quindi si è creato una sorta di circolo vizioso che bisogna rompere, spezzare per riavviare di nuovo una fase di sviluppo. Anche qui il dibattito è stato molto importante perché si è parlato di quale sviluppo, in che termini lo sviluppo si deve attuare? Deve ritornare ai vecchi schemi? A vecchi schemi per cui ci siamo ritrovati in una situazione di grave crisi finanziaria e via dicendo? No, bisogna anche saper fare uno sviluppo diverso basato sul territorio, la difesa del clima, la difesa dell'ecosostenibilità, dell'ecocompatibilità e poi l'utilizzo anche di tutta la strumentazione tecnologica che non deve andare nella direzione di distruzione del lavoro ma bensì nuovi lavori, un nuovo metodo, un nuovo paradigma di sviluppo economico basato proprio su questi nuovi valori. Ecco, il dibattito oggi è stato molto interessante e molto importante. Io credo che questo congresso e la relazione del Presidente Trefiletti abbia esattamente colto tre cose. La prima, il mantenimento di una scelta di valori che non è indifferente per chi fa un'associazione di consumatori e cioè quello dell'eguaglianza, dell'equità e della solidarietà perché connota anche un agire concreto, quotidiano di questa associazione. La seconda cosa, secondo me molto importante e innovativa è che lui ha colto anche il fatto che la funzione di questa associazione, oltre ad allargare l'impegno quotidiano di tutti i volontari, ma deve anche ricollocarsi di più dentro ai cambiamenti in corso e quindi deve assumere una funzione molto più forte esattamente per poter difendere al meglio i diritti individuali e collettivi. Per questo io credo che debba affrontare questo congresso un rapporto nuovo, rinnovato e innovativo anche con le altre rappresentanze della società che si aggregano. Questo è un passaggio importante perché con la novità che io mi auguro arrivi fino in fondo della CLAC Session, dà una responsabilità oltre che un compito maggiore alle associazioni dei consumatori, ma proprio per questa ragione, per questa innovazione è necessario un rapporto nuovo con il sistema di rappresentanza del lavoro e delle imprese a 360 gradi, oltre che essere le associazioni dei consumatori, secondo me, un'ottima funzione molto utile alla politica, al miglioramento della politica e al miglioramento delle scelte che la politica deve fare con le sue leggi. Nella storia ultracentocinquantenaria dell'Italia, neanche in tempo di guerra, noi abbiamo avuto una crisi così lunga e così profonda. Quindi è evidente che siamo di fronte a un problema che già avevamo ma che oggi diventa ancora più inevitabile, cioè come riprendere a crescere, come evitare di galleggiare dopo tutti questi anni di caduta, perché tra i nuovi poveri, il mezzogiorno che non ce la fa, i disoccupati, i giovani che sono precari nella stragrande maggioranza, e tutto questo configura un futuro privo di fiducia, privo di possibilità. Quindi dobbiamo cambiare radicalmente, dobbiamo immaginare un paese che si misuri con i problemi che ha per superarli.